Aprile 2008. Il segretario di Stato per gli affari esteri, Fiorenzo Stolfi, incontra a Strasburgo gli esperti del Moneival, che gli comunicano l'avvio della procedura rafforzata per San Marino. L'ordinamento sanmarinese, in materia di antiriciclaggio, è estremamente lacunoso. Su 20 delle 40 più 9 raccomandazioni del GAFI, gruppo di azione finanziaria, il giudizio è non conforme. Il modello San Marino è incompatibile con gli standard internazionali, segreto bancario, anonimato societario e la non perseguibilità penale dell'evasione fiscale rendono la Repubblica un buco nero nel cuore dell'Italia e dell'Europa, in cui si rifugiano capitali di dubbia provenienza, anzi, proprio sporchi. La procedura di monitoraggio rafforzata del Moneival ha pesanti conseguenze sull'operatività di imprese e banche. Icrea sospende il servizio di assegni circolari per San Marino. Lo stesso fa anche l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Banca d'Italia contrassegna gli istituti bancari sanmarinese con il codice 729, ovvero li considera non appartenenti all'Unione Europea. L'aumento dei costi, la difficoltà a cambiare assegni da parte di privati e delle imprese, il blocco del sistema dei pagamenti, il senso di precarietà e incertezza rischiano di paralizzare il sistema. Aprile 2009. L'Ocse inserisce la Repubblica di San Marino nella cosiddetta lista grigia, cioè quella dei paradisi fiscali che si sono impegnati ad accettare gli standard Ocse concordati a livello internazionale, ma non hanno ancora attuato sostanzialmente le misure. Lo spauracchio della condanna all'esilio da parte del Moneival e dell'inserimento nella Black List obbliga il Governo a smantellare la Torre d'Avorrio della piazza finanziaria fino a quel momento così gelosamente custodita dalla politica nostrana. Vengono aboliti il segreto bancario e le società anonime, estinti anticipatamente i libretti al portatore, prodotte normative per l'allineamento agli standard internazionali sulla trasparenza bancaria. San Marino avanza richiesta di stipula di accordi contro le doppie imposizioni e sullo scambio di informazione. San Marino si prepara anche a sottoscrivere l'accordo con l'Italia, lo stesso che pochi anni prima, nel 2006, la politica sanmarinese si era rifiutata di sottoscrivere. Quella di chiudere la porta in faccia all'Italia nel momento in cui il ministro degli Esteri Fini stava per partire alla volta di San Marino per apporre la firma, a parere della Commissione, è la singola scelta politica più dannosa del decennio. La fiducia della politica e dell'apparato pubblico italiano nei nostri confronti subì una forte incrinatura e riportare i due paesi alla ratifica di un accordo avrebbe richiesto altri otto anni, quelli in cui accadevano i maggiori attacchi al nostro sistema ed anche i maggiori danni proprio al sistema bancario e finanziario. Torniamo al 2009. A settembre il Money Vale, riconoscendo i passi avanti fatti da San Marino, fa decadere la procedura rafforzata, ma la Repubblica è ancora nella lista grigia dell'Ocse e giusto un mese prima, ad agosto 2009, il governo italiano, attraverso il Ministro delle Finanze Tremonti, fa sapere quello che l'Italia pensa di San Marino. A noi risulta, ma va verificato, che la quantità di contante servita da Eurosistema via Banca d'Italia a San Marino è oggettivamente un po' elevata. Cioè dire, il dato 2008 è un miliardo di euro contro, mi pare, 80 miliardi per tutta l'Italia. Cioè, un dato, San Marino sono 31 mila abitanti, l'Italia sono 60 milioni. Questo fa un volume di contante che è molto superiore, diciamo così, a 20 volte, la media italiana. Dietro questo flusso di contanti, evidentemente, c'è una realtà che va in un qualche modo considerata. Secondo il dato sui depositi. Noi, naturalmente, non sottovalutiamo l'elevata, come dire, propensione al risparmio che caratterizza la Repubblica di San Marino, ma l'Italia, che pur è molto risparmiatrice, ha 13.599 come media sui depositi, San Marino ha 229.698. Quindi c'è qualcosa che non risulta perfettamente allineato e compatibile con il PIL, con la struttura demografica del paese, eccetera. Vogliamo parlare delle auto? Naturalmente parliamo solo dei veicoli cosiddetti classe premium. Beh, sono il 20% a San Marino e solo il 9% in Italia. Ebbene, a noi risulta che siano un po' tanti gli italiani che via aere sono venuti a San Marino e sarebbero, ci risulta, diciamo, 8.000, un po' di più, vediamo. È vero che per la Repubblica di San Marino non corrisponde questo status alla residenza. Si chiama permesso di soggiorno. Però, se non è zuppa e bambagnato, noi abbiamo come un po' l'impressione che tanti di questi non dichiarano le tasse né da voi né da noi. Il fatto che non le dichiarano da voi ci lascia relativamente indifferente. Il fatto che non le dichiarano da noi ci sembra giusto che qualche cosa si debba e possa fare. Le società, a noi risulta, sul sito della Camera di Commercio di San Marino, che le società sono più o meno 3.680, delle quali 800 sono commerciali e 2.000 sono per servizi. Anche qui noi non sottovalutiamo, come dire, la vocazione imprenditoriale tipica della popolazione, però c'è qualcosa che non ci quadra. Poi c'è il discorso che, dal lato delle transazioni reali, dell'IVA e del fatto che se uno compra merci da San Marino non ci paga sull'IVA. E questo attiva meccanismi di frodi, carosello, che hanno avuto e che potrebbero avere un certo rilievo. Il resto è storia. Viene emanato il decreto che sancisce l'inserimento di San Marino tra i paradisi fiscali e poi i tremonti si avvolge in due anni di silenzio. Anni in cui fa di tutto per dimostrare che stavolta non si scherza. Aumenta esponenzialmente la burocrazia per le aziende italiane che lavorano con San Marino, guardia di finanza alle calcagne e appostamenti sulla superstrada da Rimini per ispezionare camion e furgoni sospetti. In poco tempo chiudono centinaia di aziende, molte delle quali dei veri e propri fatturifici e aumenta la disoccupazione. Alla crisi interna si aggiunge anche quella internazionale. Il governo cerca di correre ai ripari. San Marino riesce a firmare più di 12 accordi Ocse, quindi nel 2010 viene spunto dalla lista grigia. Bisognerà attendere invece il 2014 per uscire dalla blacklist italiana. Scrive in un comunicato il Ministero dell'Economia italiano «Elemento determinante per la valutazione italiana è stata la ratifica, il 3 ottobre scorso, della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, nonché la realizzazione di numerosi interventi di adeguamento sostanziale del quadro normativo sanmarinese ai più avanzati standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni». Le relazioni delle tre commissioni d'inchiesta, quella su Fincapital, quella su Cassa di Risparmio Sopaf e quella su Banca Cis e di Sesti Bancari, ci permettono di leggere gli avvenimenti di allora con una lente diversa, perché mentre i governi, messi alle strette, si affaccendavano a siglare accordi ed approvare normative a tappe forzate, il sottobosco politico-affaristico non ha mai smesso di organizzarsi. Fiorenzo Stolfi e Gabriele Gatti, che davanti ai microfoni mettono in scena la commedia degli avversari politici, erano frequentatori assidui di Fincapital, la finanziaria di cui era referente Livio Baciocchi, finita nelle carte dell'indagine staffa della DDA di Napoli, secondo cui la società finanziaria sarebbe diventata il collettore e punto di riferimento di diverse organizzazioni criminali e non, che attraverso il loro referente individuato nel Vallefuoco Francesco pongono in essere una persistente attività di riciclaggio di ingenti somme di denaro, frutto delle innumerevoli attività illecite da loro gestite. Sarà poi la commissione d'inchiesta sanmarinese nel 2012 a confermare come Stolfi, Gatti e altri politici sanmarinesi coltevassero rapporti con Vallefuoco. Sempre negli anni in cui San Marino si rifiutava di firmare l'accordo con l'Italia e si trastullava con l'anonimato societario, alcune pedine venivano piazzate nei punti chiave. Una di queste è il commissario della legge Alberto Buriani, dai primi anni 2000 in forza presso il Tribunale di San Marino. Grazie alla relazione della commissione d'inchiesta, nel 2020 sono stati certificati i suoi rapporti personali con l'ingegnere immobiliarista banchiere proprietario di Banca CIS Marino Grandoni, il suo socio Daniele Guidi e sua moglie Stefania Lazzari. In una foto del 2007 Buriani è ritratto in aereo in viaggio verso una meta turistica con Grandoni, Lazzari e Fabio Berardi, segretario di Stato delle legislature degli anni 2000, candidato alternativamente nelle liste della DC e dei socialisti alla bisogna. Banca, tribunale, politica, gli ingredienti esplosivi erano già sul tavolo oltre 15 anni fa. 2006 Banca del Titano, 2011 Credito San Marinese, 2013 Euro Commercial Bank, 2017 Asset Banca, 2019 Banca CIS. Su questi istituti si concentra la relazione della commissione d'inchiesta, che presenta il conto, 1 miliardo e 577 milioni. Ecco a quanto ammontano gli interventi diretti e indiretti sborsati dallo Stato a supporto del sistema bancario. Il conto è salato anche per cassa di risparmio, l'unico istituto ancora in attività. Da sola è costata allo Stato 858 milioni di euro, oltre ai 640 milioni di patrimonio persi nel frattempo. Il solo caso Delta, 1 miliardo e 254 milioni di euro. 375 pagine, 120 convocazioni, 600 ore di lavoro della commissione d'inchiesta per analizzare dissesti che non hanno nulla di fisiologico e nella realtà nascondevano frodi, riciclaggio, politici che accendono conti in banca a fondo perduto, senza mai restituire le somme e come loro tanti altri. E poi ancora tentativi di affossamento, di appropriazione delle banche, associazioni a delinquere. L'ultima, in ordine cronologico, quella del gruppo dell'Advantage Financial di Francesco Conforti, che la commissione identifica quale reale proprietario di banca CIS. Anche lui presente a San Marino dagli anni 2000. Nel tempo ha piazzato le sue pedine in tribunale, in banca centrale, in cassa di risparmio, in altri istituti di credito, tra i consulenti, nel governo, nei partiti. San Marino, paese virtuoso sulla carta, nella sostanza giunge ad essere occupato, in tutti i gangli vitali, da un gruppo criminale. Sulla carta esistono le normative di vigilanza, quelle per l'antiriciclaggio. Nella pratica, gli ispettori che hanno l'ardire di condurre controlli nelle banche vengono fatti saltare, con una scusa o con l'altra, dalla politica. Il gruppo Conforti Grandoni si prende gioco dei sanmarinesi attraverso la stampa e i media, che danno spazio a troffatori seriali come il finto magnate arabo Ali Turchi, presentato come salvatore del CIS e del paese, che fanno da megafoni ai politici e dipingono una realtà in cui Conforti non esiste, in cui chi lo denuncia è un fantasioso complottista, una realtà in cui banca CIS è solida e appetibile. Non basta denunciare un sistema malato, occorre porre le basi per ricucire le ferite e crearne uno nuovo, virtuoso, partendo dal tribunale. Ed ecco le riforme, ed ecco un nuovo dirigente, Giovanni Canzio, dal profilo elevatissimo al di sopra di ogni sospetto. Ecco che il governo nel 2020 si costituisce parte lesa nei confronti di chi ha distrutto il paese. Ecco i rinvii a giudizio di persone, grandoni, guidi, che fino a pochi anni fa si vantavano di essere padroni del tribunale. Riusciremo a fare la differenza se le istituzioni saranno in grado di abbandonare le vecchie abitudini, se, come paese, saremo convinti di voler cambiare, senza che qualcuno, l'Oxe, il Monival, l'Italia, ci punti una pistola alla testa. Se sapremo leggere la realtà, oltre la cortina di fumo, che la stampa, i media, i falsi sondaggi, gli slogan a orologeria, i finti profili social propinano quotidianamente. L'alternativa? Non imparare dagli errori e continuare ad accontentarsi di giudicare il libro, sempre e solo, dalla copertina. Grazie a tutti.